E in occasione del centenario dalla nascita del grande Pierpaolo Pausolini, il teatro Tram di Napoli dà il via ad una serie di spettacoli che possano ripercorrere in un modo unico il grande poeta e grande regista italiano. Si parte dunque domani con uno spettacolo così titolato La Venere Tascabile, spettacolo che rende omaggio alla musa ispiratrice di Pierpaolo Pausolini ovvero la grande Laura Betti e a raccontarci questo imperdibile appuntamento abbiamo con noi oggi a mattina live la protagonista ovvero l'attrice Carmen Pommela. Buongiorno, apprezzatissimo molto del teatro italiano ma anche del cinema e anche della televisione con le sue recenti interpretazioni in estate alla mano di Dio del regista Paolo Sorrentino e anche nella fiction Mare Fuori. Buongiorno, grazie di essere qui con noi a mattina live ed è un'occasione appunto per parlare non solo di teatro ma anche di Venere Tascabile. Sarà presente protagonista in scena al Teatro Tram di Napoli ed è un omaggio alla musa del grande Pierpaolo Pasolini ovvero Laura Betti, una tragica Marlene ma anche una vera Garbo così come diceva il grande intellettuale Pasolini. Sì, 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 una maestosa presenza nella vita di Pasolini così come Pasolini è stato per lei insomma un uomo che ha praticamente tracciato la sua vita da un certo punto in poi, ha segnato la sua vita. E da un certo punto in poi perché in realtà Laura vive due vite segnate per l'appunto dall'incontro. Sì, è una vita spaccata in due, una vita spaccata in due fino all'incontro con Pasolini, lei era la cosiddetta giaguara di quegli anni, di quella Roma di Via Veneto e dopo l'incontro con lui chiaramente è cambiata completamente la sua vita e lo spettacolo in modo anche molto ironico racconta proprio questo spaccato di vita e si divide in due parti interessantissime perché la prima insomma in modo ironico e divertente racconta chiaramente tutto quello che è successo durante il periodo dell'incontro con Pasolini. L'incontro dove come dicevi i cambi hanno trovato l'ispirazione vicendevole c'è stato un vero e proprio legame di grande profondità intellettuale ma anche artistica, un vero e proprio amore artistico. Da parte della Betty diciamo alla fine insomma le nostre ricerche sono arrivate a capire anche che comunque lei è stata veramente innamorata di quest'uomo ed è stato l'unico uomo diciamo della sua vita se vogliamo. Questo aspetto ecco due mondi diversi, due vite segnate, il prima ed il domo, il pre e il post Pasolini e questo permette quindi di capire anche un po' il carattere di Laura Betty prima una giaguara come dicevi, ma anche ritrovare poi in questo altro spaccato di vita un animo sicuramente più fragile, un animo più profondo, intimista che riesce dopo la morte di Pasolini semplicemente a sopravvivere tant'è che la prema a sbagliare per capire qual è la causa della sua morte, a fare ricerca per capire perché muore così tragicamente Pasolini tant'è che lei poi dà la vita al fondo Pasolini. Sì 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 sì, ripeto la sua vita è stata segnata completamente da quest'uomo e anche fisicamente all'inizio lei era piccolina, magrolina e quindi insomma riusciva anche ad interpretare dei ruoli completamente diversi da quelli che poi ha interpretato nella seconda parte della sua vita. La devastazione totale dopo la morte di Pasolini chiaramente rappresenta il fine ultimo diciamo Anche il senso della sua vita? Sì sì è il senso della sua vita, cioè anche il fatto di arrivare ecco prima con la dottoressa lei parlava di obesità e lei a un certo punto è diventata obesa, si è trasformata completamente senza rinunciare però chiaramente all'arte e fregandosene lei nello spettacolo infatti nel suo libro Teta Vereleta lei dice bisogna far coincidere l'interno con l'esterno, fate come me, io tutto quello che sono dentro sono anche fuori. Essere liberi molte volte liberarsi dagli stigma in generale diventa difficile però probabilmente questo sarà l'insegnamento che l'intellettuale che Pasolini li avrà sicuramente restituito. Assolutamente sì. Tra l'altro ecco lei non dimentica di essere se stessa ciò che è dentro e fuori tant'è vero c'è un aspetto della vita del pre Pasolini che li porta anche dopo ed è presente in scena perché in scena c'è tanta buona musica perché Laura Vetti era in primis una musicista. Sì sì lei infatti racconta di tormentava questi scrittori no da Moravia Fortini li tormentava per poter far scrivere delle storie delle canzoni e lei ironicamente dice perché loro sanno io chi sono io non lo so e probabilmente forse lo ha capito ha capito di essere quella che poi si è si è guardata allo specchio dopo la morte di Pasolini ha capito di essere quella lì. Di essere un'artista poliedrica no? Sì anche. Il post morte di Pasolini perché lei aveva un modo di esprimersi l'abbiamo detto con la fisicità, la musica, il linguaggio, la voce ma anche tanti studi accademici tra l'altro stiamo vedendo grazie al nostro regista Salvatore Mondo alcune immagini di te in scena. Sì no rido perché questo è un momento molto divertente dello spettacolo insomma lei c'è tanta ironia anche. Sì c'è molta ironia lei qui ironizza sul chiede a Pasolini come bisogna diventare intellettuali e quindi. Come si diventa intellettuale? Infatti poi Pasolini glielo spiegherà in un certo modo e lei chiaramente continuerà ad ironizzare su questa tematica dell'intellettuale. Laura Vetti sicuramente è una grande donna, un'artista poliedica lo stiamo dicendo ma possiamo anche definirla una antesignata dei tempi, una precuritrice. Ma assolutamente sì. È stata molto all'avanguardia e è stato sempre un personaggio che ieri ma che anche oggi affascina. Ecco che cos'è che affascina di questo personaggio? Guarda ti dirò io personalmente ne ho avuto sempre un po' paura come la Betty aveva un po' paura insomma di accostarsi a Pasolini così come gli altri scrittori. Io ne ho avuto sempre un po' paura però c'è stato un momento della mia vita dove grazie al maestro Renato Carpentieri ho conosciuto questo personaggio che io non conoscevo affatto e Carpentieri ci ha perché poi ha coinvolto anche il regista Antonio Davino che è un mio amico e compagno di accademia che salutiamo Antonio, lo saluto con grande affetto. E quindi come dire, ha segnato, quello è stato il momento in cui io ho deciso poi di studiarla, di andare fino in fondo anche perché è così lontana da me ma nello stesso tempo ci sono delle cose che ci legano tanto. Cosa possiamo apprendere, qual è l'insegnamento che possiamo imparare da Laura Betty e quindi attraverso questo spettacolo che ti vedrà protagonista? Ma innanzitutto la verità, la verità in assoluto, lei diceva sempre la verità, infatti diceva io non riesco, non ho la vergogna di ammettere che non sono una bugiarda, dico sempre per questo anche se si è fatta tanti nemici nell'ambiente perché lei quello che pensava quello diceva con un'assoluta schiettezza anche con lo stesso Pasolini gli rimproverava, dice sei un intellettuale, sei sempre dietro a tutti questi pensieri che poi nessuno bisogna sempre starti dietro, abbiamo paura di te, insomma rilassati, continuava a fare così. Poi è stata completamente stravolta da quest'uomo per cui che cosa ha l'insegnamento? L'insegnamento? Beh è una donna, una donna sotto tutti gli aspetti, ha tutte le sfaccettature dell'essere donna. Oggi abbiamo bisogno di essere donne, di sentirci donne e sicuramente la sua vitalità, la sua energia, la sua forza ma anche la sua fragilità perché poi per le donne è bello anche essere fragile, oggi può essere un esempio per tutte le donne moderne, Laura Betty e quindi è giusto apprendere da lei, conoscerla più approfonditamente. Sì la fragilità è questa diciamo è un elemento che mi accomuna alla Betty perché la seconda parte dello spettacolo emotivamente è molto forte e lì riusciamo a far venire fuori le due, cioè Pommella e Betty. Pommella e Betty che si incontrano. La prima parte è Betty, la seconda è Pommella e Betty che si rincontrano. Insomma complimentissimi, è un spettacolo imperdibile, saremo presenti al Teatro Tram di Napoli per ricordare ancora un grande intellettuale Pierpaolo Pasolini ma attraverso gli occhi e il mondo di una donna che per l'appunto l'amato ovvero Laura Betty nella straordinaria interpretazione della nostra attrice Carmen Pommella oggi qui a Mattina Live. Complimenti e grazie. Grazie mille. Buon teatro. Grazie, grazie a te. Noi ci ritroviamo fra pochissimo, piccolo break pubblicitario. Grazie a te.